Il corteo funebre partirà domani pomeriggio alle 16 da Via Nemea 21, la casa romana di Raffaella, il condominio immerso nel verde dove viveva da oltre 40 anni. Il ricordo della Carrà, ultima vera showwoman della nostra televisione, accompagnerà le tappe nei luoghi simbolo del suo successo. Raffaella Carrà rappresenta una stagione irripetibile della televisione italiana e io mi sono molto ritrovato nel ricordo che ha lasciato sui giornali in queste ore Renzo Arbore, una televisione che nello stesso tempo educava e divertiva. Una stagione irripetibile, Raffaella Carrà è stata una punta di diamante di questa meravigliosa televisione italiana, elegantissima, mai volgare, una campionessa dell'intrattenimento familiare. All'auditorium della Rai, in Via Teulada, al Teatro delle Vittorie, in Via Le Mazzini, le soste programmate per il saluto pubblico. Un minuto di silenzio per la donna che ha cambiato le regole nella TV pubblica, che ha innovato lo spettacolo e mostrato la strada da seguire. Il corteo arriverà così nella sala della Protomoteca in Campidoglio, da sempre deputata per l'ultimo addio ai personaggi della cultura e delle arti, dove la camera ardente sarà aperta dalle 18 alla mezzanotte. L'ingresso sarà dalla coordonata anche il giorno successivo, giovedì, dalle 8 alle 12 e dalle 18 di nuovo a mezzanotte. Venerdì alle 12 il rito funebre presso la chiesa di Santa Maria in Araceli, sempre su Piazza del Campidoglio, per rendere omaggio a chi ha regalato al suo pubblico 60 anni di dedizione, rispetto, intelligenza e talento.